Let's go bitches prima che diciate qualcosa non vi preoccupate non è un commentary ci sarà il gameplay con il live non vi preoccupate quello che vi voglio dire è che ci tengo molto a questa serie che sto facendo del rotto dark matter ve l'ho sempre detto ero molto scettico sul farla avevo un pochino paura di farla ma come sapete mi piace mettere questo gameplay di eccellenza di una sfida che sto facendo cioè cercare di andare a fare la dark matter e allo stesso tempo mettere un montaggio divertente ci tengo molto questo pure secondo me è uno dei gameplay più difficili che ho fatto cioè una nuclear con l'argus senza perk come avete visto dal titolo e veramente a un certo punto sclererò quando farò la nuclear mi incazzerò tantissimo proprio per la soddisfazione comunque perché ci ho messo un giorno per farla devo dire è stato molto difficile e vi voglio dire una cosa per favore ragazzi lasciate un like spolliciate questo video passatelo in giro fatelo vedere perché ci tengo a questo rotto dark matter voglio continuarlo lo devo ancora finire come sapete la dark matter si l'ho già presa ma ci sono altri gameplay da mettere alcuni assurdi fatti con le pistole altri con i mitraglioni altri con i cecchini quindi spero veramente vi piaccia spero lo spolliciate spero che mi supportiate questo gameplay io vi lascio comunque al video vero e proprio nel frattempo vi stavate gustando un pochino l'inizio del gameplay quindi ci becchiamo al prossimo video let's go bitches mi raccomando spolliciatelo dai cazzo no no ma non muore riflippato no perché non ti aggrappi riflippato tirato later riflippato riflippato prendiamo no no lasciatemi quella sua per chi massimo quelli in c fanculo quello dove gli sparo c'è una pala a se far correre lasciatemi prendere eh no 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 eh lo sai chi è? ma che quello sua? il mio quello sua si deve vare buona buona quinta no tua madre ma l'unico quel draco lo devo andare a trovare io gatto crolla controlla a 2b f guadagnato c'è un ultimo dietro l'ammazzio 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 sto solo pure ce l'ho pure io later vabbè raga io vado io ce l'ho questa sera bella felice sono vicinissima a prendere la cazzo di nuclear con l'argus? si se l'ho dato così li state ammazzati a tutti voi li flanco in c li flanco in c no me l'ho ammazzato no 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 nucleare oddio l'ho fatto l'ho fatto ma vedi ce l'ho fatta ce l'ho fatta e senza fottutissimi perk la skill park co2 morite dove sei? vieni qua co2 mo c'ho il veleno nelle vene prendo c no ma me l'ho spannato uno qua vaffanculo senza perk merda bravo l'hai tornato malissimo spari sul cadavere in direi stavo mettendo anche l'argus però dopo stava sparando ce l'ho ripensato la faccia la vince la vince la vina mamma era il fotturino cazzo e cazzo cazzo mamma mia porco 2 sto c'ho il veleno sciomi valetta e disappear santa maria vaffanculo vaffanculo c'ho il veleno porco 2 c'ho il veleno oh mannaggia test nero mi sta rubato vaffanculo questo non lo challenge si si non lo challenge mica non è morto non è morto è uscito io vado a prendere A però non ci riesco la prendono prima arrivo arrivo zio prendiamo A prendiamo A vai 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 va vai vai voi rimanete in C io rimanete in A vai c'è il site aspetta aspetta rimaniamo di buone metto qua io guardo si io mi metto pure un po' avvicinato no 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 vaffanculo ma forse così la diciamo sta in modalità veleno vinta vinta no mamma stronzo ti è ho detto non no 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 na no 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 no